Eccola la casa di Montechiaro della famiglia Rossidoria dove in occasione dei 30 anni, oggi 5 giugno 2018, 30 anni fa esattamente il 5 giugno del 1988 moriva Maglio Rossidoria che è qua nel cimitero, ci siamo stati pochi minuti fa questo è il caseggiato, un antico caseggiato che già rispetto alla strada sporge diversamente perché probabilmente la viabilità è diversa in antichità è un fabbricato che questo arcone ce lo fa risalire tra quelli più antichi della frazione di Montechiaro intorno gli abitanti ci accennano che lo conoscono benissimo sabato e domenica frequentemente arrivano gli eredi, il figlio Marco con i suoi familiari la casa è vissuta ed è frequentata ci tenevamo a farvela vedere perché è il posto che lui ha scelto è il posto che lui ha scelto per gli anni tranquilli della sua vita, gli anni finali prima di morire nel 1988 indietreccia arriva fino a te all'altro all'ho all'ispo 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 al all'ispo all'ispo Grazie a tutti.